Cambio al vertice della cassa di risparmio di Fabriano e Cupra Montana. Dopo le dimissioni di venerdì 30 maggio del direttore generale Vincenzo Tagliaferro, l'istituto di credito ha subito provveduto alla nomina di Paolo Mariani, come erede di Tagliaferro che ha traghettato negli ultimi 5 anni la cassa fuori dalla crisi che l'aveva investita nel 2003. Un avvicendamento molto rapido e dovuto a divergenze sugli obiettivi da perseguire nel futuro. È stato anticipato dalla necessità di traguardare quelli che sono gli interessi della banca, gli interessi del dottor Tagliaferro e quindi consensualmente si è deciso che era meglio anticipare l'avvicendamento peraltro già previsto in passato. 47 anni, re canatese, Mariani vanta un'esperienza ventennale nel panorama bancario. Alla cassa arriva nel marzo del 2006, assumendo la carica di direttore commerciale e dal novembre 2007 ricopre l'incarico di vice direttore generale responsabile area mercato. È ora la nomina ad una delle poltrone più importanti della Carifac per una strategia di sviluppo che parte dal territorio. È una eredità impegnativa. I dati della banca sono importanti e sono notevolmente migliorati negli anni della direzione Tagliaferro. Io ho la responsabilità di consolidare quanto fatto e di farlo crescere. Quindi direi che c'è un buon punto di partenza ma tanto tanto da crescere. Questo è quello che ci proponiamo nei prossimi anni. Nuova vita insomma per la cassa di risparmio di Fabriano e Cupra Montana, che nei prossimi anni si troverà a svolgere l'importante compito di sostenere un territorio che si avvia ad affrontare momenti difficili.